ehi bentornati tra le tante gioie che quest'anno stardust ci ha donato è arrivato anche l'album delle keys of life autografato i loro autografi tra l'altro tutti tutti super belli ho scelto la signorina perché ha una firma molto elegante gli autografi degli altri pure mi piacevano stavo scegliendo a null ma per un qualche motivo l'autografo di a null sembra che sia scritto sky e quindi ho preferito un autografo dove era ben ben leggibile il nome non avrei mai creduto che avremmo avuto in italia un loro album autografato soprattutto così presto invece sardast ancora una volta è riuscito in questa impresa quindi vi ricordo supportatele al 100 per cento perché se non lo supportate e poi occasioni come questa non si ripresentano più perché se non lo fanno loro chi lo fa iniziamo perciò l'unboxing del loro secondo album tra l'altro due album in pochissimo tempo che ricorda tanto 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 magazine non ho idea di quante pagine sia il photobook ma credo siano veramente tante costina e dietro iniziamo dal poster poster di cartoncino un pochino fine se devo essere sincera eccolo qua ve lo faccio vedere quanto è grande ecco è tipo double face è un altro poster dietro ma dove praticamente è tipo un poster manifesto dove ci raccontano di cosa tratta l'album aprendolo sia subito proprio come una rivista è proprio un magazine ok wow ok per ora sembra tutto molto magazine infatti qualitativamente la stampa non è fatta precisissima risulta tutto molto sgranato però i colori sono proprio belli belli accesi qua abbiamo le lyrics e qua abbiamo l'indice molto bello raga ma è proprio stile davvero magazine perché se vedete qua di lato e qua ci sono anche scritti i vestiti che indossano sembra di sfogliare un cosmopolitan questa foto qua di julie mi piace tantissimo questa realtà non so cosa sia perché credo sia un'intervista perché ci sono le domande però non è tradotto credo che forse qui ci sia una traduzione what che cos'è raga questo album qua è veramente pieno di sorprese wow ma che figata è raga ma in che senso 100 per l'inventiva ora voglio vedere cos'è questo QR ma non ci voglio credere è tipo un'intervista di quelle che fanno per le riviste di moda vabbè amo quanta bellezza in un solo album ok ok qui abbiamo le lyrics qui abbiamo un cambio look questo qua di Belle tanta tanta roba questo qua di Natti insomma un po' tanto strano e poi wow questo di Anuil bellissimo wow guardate i Julie stupende questo qua poi è il look principale della versione good queste sono sgranatissime come foto lazy sunday vediamo un po' fanno molto white ok molto stile new jeans così in bianco jeans così sbarazzine bellissima qua Null wow anche qui Belle queste mi sa che mi piaceranno tutte sì decisamente sì molto molto bello anche queste qua da subunit dove abbiamo Belle e Anuil e Julie e Natti qui abbiamo molto molto pubblicità wow don't lash out fill me up by Julie secondo me questi sono tipo dei wow questo the coolest pink sono secondo me dei photoshoot tipo pensate o dei concept pensati da loro bellissimo bellissimo credo che questo è il photobook di cui ho fatto vedere più foto e non è finita qui perché guardate abbiamo un altro look pazzeschi cioè raga ma di cosa stiamo parlando? mamma mia poi le foto sono una più bella dell'altra e la miseria ma così Julie stupenda qui abbiamo Belle in versione Ariel oddio qui non mi fa impazzire a nulla è tutto troppo contrastato un po' alienina mamma mia Natti wow ok qui le abbiamo in stile molto preppy fanciulle ricche eccole qua voi pensate sia finita ma no qui abbiamo tipo una parte più social peccato che questa parte qua non siano un minimo tradotte anche in inglese sarebbe stato una cosa molto bella anche per noi però vabbè uno lo inquadra col telefono e usa l'autotraduttore cioè praticamente questo album è una specie di season greetings molto bello staff interview ok ci sono anche delle parti dove hanno intervistato lo staff con cui hanno lavorato figo noi però non sappiamo il coreano quindi tocca saltare e infine bam così come se fosse una specie di tipo cosa in più abbiamo il cd come se fosse uno di quei regali che trovi dentro le riviste kiss of life molto bello e tra l'altro si può anche ritagliare vabbè vediamo un po' l'inclusion abbiamo ok degli adesivi ok è arrivato il momento delle fotocard dietro qua c'è un messaggio vediamo che abbiamo abbiamo giuli guardate che faccio i no cutie e poi anche qua kissy che è il nome del fandom oh raga abbiamo doppia giuli e non è finita qui perché essendo un'esclusiva di hello 82 questa versione autografata abbiamo anche una fotocard in più proprio quella che è l'esclusiva di hello 82 vedete ed è la mia patatina a null questo è tutto quello che trovate dentro born to be xx versione bad delle kiss of life in esclusiva con hello 82 preorder autografato da nati fatemi sapere quanti di voi hanno preso questo album in che versione se siete riusciti a prendere la versione autografata e di chi avete avuto l'autografo quali sono stati i vostri pool e se ce n'è qualcuno che mi invidiate spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo ciao ciao ciao